Formazione integrata tra la Polizia Locale e le varie forze di Polizia dello Stato dislocate sul territorio e azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza. Il comando di Iapigia della Polizia Locale di Bari ha ospitato il primo appuntamento della Scuola Regionale di Polizia Locale, istituzione che da un paio d'anni forma non solo i neoassunti dei vari corpi di tutti i comuni del territorio ma anche i comandanti e i capi di settore. Il focus delle scorse ore che ha visto la presenza di oltre 200 partecipanti è stato dedicato alle tematiche ambientali, un vero e proprio laboratorio che attraverso un sistema permanente di formazione valorizza, qualifica e coordina l'attività degli operatori di Polizia Locale della Regione Puglia. È un momento importante perché serve per approfondire delle tematiche diciamo nei principi fondamentali che interessano il ruolo dirigenziale, il ruolo dei comandanti ma anche poi entrare nel dettaglio e scambiare esperienze di best practice condivise dagli altri comandi quindi un momento importante non ce ne sono stati mai in precedenza. È importante che vi sia un'iniziativa come questa formativa per tutte le polizie locali, è importante che vi sia questa sensibilità ai diversi livelli perché negli ultimi anni di fatto si è assistita ad un indebolimento della rete dei servizi di Polizia Giudiziaria in materia ambientale. La formazione della Polizia Giudiziaria è un elemento essenziale perché la professionalità è quello che tutela ampiamente i cittadini di fronte all'intervento repressivo, inevitabilmente repressivo della Polizia Giudiziaria.